Si è alzato il sipario sul Tradate in vista della stagione 2020-2021, piazza storica, quella di Tradate che ha visto anche l'eccellenza neanche in tempi così lontani, presidente storico Osario Tramontana, ancora una volta il numero uno in casa tradatese. Il Tradate è una società un pochino da invidiare per quando ci riguarda, io sono di parte e mi permetto il lusso di dirlo questo discorso, di farlo questo discorso. Quest'anno purtroppo vogliamo definire il campionato perché purtroppo non ci hanno permesso di finirlo lo scorso campionato che abbiamo portato avanti per quello che sapete voi per il Covid. Detto questo, quest'anno abbiamo fatto una rosa discreta come tutti gli anni, però insomma vediamo di fare bene. Cosa vi aspettate da questa stagione e cosa vi aspettate anche magari da Tradate che è il patrone di questa struttura? Sicuramente ci sta un po' stretta anche la situazione nella prima categoria, noi abbiamo toccato dei punti, abbiamo fatto anche l'eccellenza come sicuramente tanti di voi sanno, per cui ci siamo tolti anche delle belle soddisfazioni. Nel ruolo di direttore sportivo ma anche di giocatore Marco Galluzzo che ha confermato gran parte della rosa e non solo. Il 90% della rosa l'abbiamo riconfermata, puntiamo sui giovani oltre a tanti vecchi che eravamo già, puntiamo sui giovani che giocheremo sicuramente con i 3-2 mila, che siamo oltre e fuori quota, vediamo se riusciamo a tirarci via un po' di soddisfazione, sicuramente vogliamo migliorarci. In ottica giovani, l'anno scorso era arrivato Paolo Ferra stagione in corso che è stato riconfermato, ha sempre lavorato con i giovani quindi è un valore aggiunto, è lui il vero valore aggiunto in questo Tradate? Sì, secondo me sì, perché i vecchi sono capaci a fare i vecchi, con i giovani serviva un mister come lui e lui ci sa fare e poi è bello motivato, gli allenatori così mi piacciono. Sicuramente darò una spinta in più per un Tradate che vuol fare il passettino in più rispetto all'anno scorso, ovvero essere quantomeno dentro quelle prime cinque? Sì, con gli acquisti che abbiamo fatto e la spesa che fa la società ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, quindi sicuramente dobbiamo arrivare nelle prime cinque. Incensato dal direttore sportivo Paolo Ferra sarà ancora alla guida del Tradate anche nella stagione 2020-2021. La società qualche mese fa mi ha chiesto se rimanevo, io benvolentieri, per continuare il percorso che ci avevano fermato per il fatto del Covid, sicuramente sarà una bella esperienza fin dall'inizio e si potrà partire con delle basi ben solide. Il tuo direttore sportivo ha incentrato nei play-off, è l'obiettivo stagionale del prossimo anno per piazza e tradizione, diciamo che Tradate ci deve essere, anche perché il lavoro che stavate facendo l'anno scorso portava a una rimonta. È l'obiettivo play-off, è l'obiettivo del Tradate? Sì, da quando sono arrivato io, che era a metà dicembre, ho sempre detto che questa squadra aveva dei valori. Quest'anno il direttore sportivo Galluzzo ha fatto degli innesti importanti, per cui siamo andati a valorizzare una rosa già importante. Se ritorniamo indietro di qualche mese fa, dopo la vittoria di Ferno, io ho sempre dichiarato che mancavano 9 partite, per cui 27 punti, eravamo a 5 punti dei play-off e ci hanno fermato nel momento migliore, secondo me. Tante conferme, qualche arrivo giovane soprattutto, ma giocatori che tu conosci bene, avendo fatto tanto settore giovanile, ci sono appunto una base solida e anche degli innesti di qualità. Sì, la base abbiamo voluto fortemente io e Marco la conferma dei giocatori che abbiamo tenuto, per cui da lì siamo ripartiti e siamo andati a prendere dei giocatori che io già conoscevo, perché avendo fatto settore giovanile, quindi siamo andati mirati su due giocatori che per noi erano molto importanti. Cannazzaro, Luca Cannazzaro, che era a Castellanza, e Mattia Boldini, che arriva dalla Varesina. Durante la serata è intervenuto anche l'assessore allo sport di Tradate. La vostra società ormai è consolidata sul territorio da tantissimi anni, per noi motivo come amministrazione di grande prestigio e valore, quindi grazie davvero, un buon in bocca al lupo a tutti. Si vuole ripartire in vista di una nuova vincente stagione, cercando di riprendere slancio da quello che fu la stagione dello scorso anno, quando la rimonta in ottica play-off fu fermata soltanto dal coronavirus. E proprio in questo senso allora tante riconferme, tra queste il direttore sportivo Riccardo Galluzzo, il tecnico Paolo Fera, per una società che rilancia le sue ambizioni sempre con vista play-off.